Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video vi sto facendo la mia schermata facendo vedere ovviamente la mia schermata principale di tutti perchè come potete vedere qui Fortnite sta facendo un nuovo aggiornamento 51 minuti rimasto vabbè ma non è questa la cosa che volevamo fare oggi oggi noi in realtà volevamo guardare ok vabbè abbastanza tempo volevamo andare su YouTube doveva dovevo farvi vedere alcune cose no questa roba non ci interessa ok qui vedete i vari video che guardo io seguo comunque YouTube YouTube vario ma oggi noi ascolteremo la mia canzone preferita accendo la luce e metto sono faremo un attimo ecco si 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 ragà 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 see Che spuglio Riconoscete questo pizzo qui? Io l'ho appena conosciuto, ho appena iniziato a spasicurare Eh vabbè, sono belle seranze Ma piacciono Fai il figlio La defesta qui vicino ciampa Sto volando, devo scendere Sento la cassa, mi serve una lampa Apro e trovo solo il vampa Con questa squadra sempre un buon giocatore Se starto in solitaria mi trasformo in un drone Le migliori giocate le posto nelle storie Ma tanto lo sai, sono a zero vittorie Sì, potrebbe bastare Sì, tanto ripete la stessa cosa 5 milioni di volte Beh Penso che con questo video basti così Sì, basta così Allora, spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel like se vi è piaciuto e vi saluto Grazie